È un orgoglio essere qui per l'inaugurazione della 83esima edizione della Fiera del Levante, è un orgoglio per Bari, per la Puglia, è un orgoglio per l'Italia intera, per l'intero mediterraneo, è un punto di riferimento, Bari tradizionalmente è una città che anche sul piano culturale, oltre che commerciale, attraversa i confini, così vogliamo che sia l'Italia, deve ripartire tutto il sud, deve ripartire tutto il sud a beneficio dell'intera nazione, noi siamo qui per questo, per dare questi messaggi di coraggio, di determinazione e anche di speranza, lavoreremo intensamente per far ripartire il sud e l'Italia intera. Grazie